Grazie a tutti. Fa ingresso in sala il Presidente della Repubblica. Buongiorno. 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 del finanziamento da parte del ceto bancario che nei prossimi giorni dovrà pronunciarsi formalmente. Ottenuto il via libera delle banche, il piano passerà agli uffici regionali e sarà sottoposto, entro metà dicembre, all'approvazione finale da parte dell'Assemblea del Socio Unico che potrà quindi procedere alla ricapitalizzazione. I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno concluso un'operazione in materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gela, sequestrando circa 6 chili di hashish e un chilo di marijuana. Anche a seguito di alcune segnalazioni provenienti da cittadini, circa possibili attività di spaccio nel quartiere Cantina Sociale di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un cittadino gelese di 24 anni, trovato in possesso di 59 panetti di hashish e una confezione di plastica contenente circa un chilo di marijuana. Le Fiamme Gialle, dopo l'ispezione dell'autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo anche alle abitazioni del giovane, rinvenendo e sequestrando ulteriori due grammi di marijuana. Al termine delle attività, il pusher è stato tratto in arresto e, su disposizione della locale procura della Repubblica, è stato condotto presso la casa circondariale di Gela. Gli investigatori stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per individuare eventuali complici del giovane. La costante attività info-investigativa, ha consentito ai carabinieri della stazione di Mazzarrone di arrestare in flagranza un incensurato 19enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, i carabinieri hanno predisposto numerosi controlli veicolari dinamici, fino a quando, verso le 13, non è stata fermata una Honda CRV guidata da un ventunenne ragusano incensurato che si trovava in compagnia del 19enne. Sin dalle prime fasi del controllo, il ragazzo più giovane è apparso alquanto nervoso, e questo suo atteggiamento non è sfuggito ai militari dell'arma che, perciò, hanno deciso di perquisirli scovando, nascosta in un pacchetto di sigarette, una dose di cocaina. Tanto è bastato per indurre i carabinieri ad approfondire la ricerca, estendendo la perquisizione anche presso l'abitazione del giovane. Qui all'interno di due scatole di scarpe e di una pochette, i carabinieri hanno recuperato 75 grammi di hashish, un barattolo di vetro con 30 grammi di marijuana e circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga in singole dosi, e 690 euro, ritenuti i guadagni dell'attività di spaccio. Il 19enne quindi, è stato posto in arresto, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, hanno arrestato in flagranza un pregiudicato Giarrese di 36 anni, responsabile di furto e detenzione di droga ai fini di spaccio. Intorno alle ore 12, il proprietario di una Fiat Grande Punto ha denunciato ai carabinieri di Mascali di aver subito il furto della propria autovettura. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri, che hanno anche acquisito i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza della zona, hanno fornito elementi utili per identificare l'autore del reato. Poco dopo una gazzella della radiomobile ha rintracciato l'auto rubata. In particolare, l'equipaggio ha sorpreso l'uomo che, dopo essersi introdotto nell'abitacolo ed aver estratto qualcosa dal blocchetto d'accensione, si è allontanato con fare guardingo. A quel punto, i carabinieri sono intervenuti per bloccarlo e lui, accortosi del loro arrivo, ha tentato inutilmente di sbarazzarsi dello spadino l'Arnese adoperato per forzare l'apertura e l'accensione dei veicoli, lanciandolo sull'asfalto. Messo in sicurezza il 36enne e recuperato il Grimaldello, i militari dell'arma lo hanno perquisito, trovandogli in tasca due dosi di marijuana e 550 euro. Inoltre i carabinieri hanno deciso di controllare anche la sua abitazione trovando altre 12 dosi di marijuana e una bustina contenente 10 grammi della medesima sostanza, stupefacente non ancora confezionata. Il 36enne è stato quindi posto in A. L'arresto e con rito direttissimo è stato disposto agli arresti domiciliari. Le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 4 dicembre di Globus Television. Mercoledì, nonostante la pressione in diminuzione non ci saranno precipitazioni da menzionare, cielo molto nuvoloso o temporaneamente coperto. Temperature massime fino a 20 gradi, valori notturni che non subiranno variazioni. 20 deboli.